Ci troviamo sull'ingresso L'associazione culturale La Ruga Un'associazione di Ponte Egola Che abbiamo più volte proposto A nostri telespettatori in occasione Soprattutto di presentazione di libri Oggi La Ruga si ampia Perché i locali al piano terra Sono stati completamente recuperati Ristrutturati E adattati da oggi A esposizioni d'arte Ma non solo esposizione Filippo Lotti che è un volto ben conosciuto Da nostri telespettatori Nostro collaboratore E' uno degli animatori della Ruga Ci ha convocato oggi sabato 26 marzo 2011 Per questo evento importante Per l'intera comunità Non solo di Ponte Egola Ma per l'intero comprensorio del cuoio Un momento di aggregazione importante Sganciato dalle logiche di partito Di confessioni religiose Ma nato per volontà Di un gruppo di cittadini Che si sono riuniti Per amore dell'arte Della cultura Ma soprattutto per stare insieme Sì, cinque anni fa Abbiamo deciso di prendere Questa porzione di conceria Di ristrutturarla E di fare qui Il nostro centro operativo Di questa associazione Poi col passare degli anni L'appetito mi ha mangiando E abbiamo Si accavallavano Anche diciamo Gli interessi Ci richiedevano diverse cose Corso di cucina Corso di ballo Corso di computer E altre cose Quindi abbiamo deciso Di ampliare i nostri spazi Come recita lo slogan Ci siamo fatti in due Quindi abbiamo raddoppiato gli spazi Quanti sono i soci della ruga? I soci sono molti Sono oltre 200 Ma diciamo che Quelli fondamentali Nel senso Quelli che Fattivi Quelli che si danno da fare Siamo compreso io Una decina Quindi insomma La forza di pochi Per dare a molti Benissimo La inaugurazione Scusa se mi permetti L'importanza Come hai detto tu Per il paese Per il tessuto pontegolese Che abbiamo inaugurato Ora questa nuova sala Intitolata Marianella Marianelli Che la chiamavo Zia Marianella Anche se la parentela Che ci legavano Non era così stretta Però Un personaggio Importantissimo Per la nostra comunità Diciamo Un punto di riferimento Una scrittrice Una poetessa Quindi un punto di riferimento Per noi E proprio nel pomeriggio L'assessora alla cultura E vice sindaco Di San Mignato Chiara Rossi Ha tagliato Il tradizionale Nasto tricolore Per inaugurare La sala dedicata A Marianella Marianelli All'interno della quale Oggi è ospitata Una mostra Quella del pittore Francesco San Micheli Ma che in futuro Oltre alle mostre d'arte Sarà anche teatro Di altre manifestazioni Sì Teatro di moltissime manifestazioni Tra l'altro Vedo In lontananza Morizzo Bolognesi Di Radio Bruno Abbiamo avuto l'onore Qui di quando Radio Bruno È stata spostata Diciamo La sede Da quando era Radio 4 Da Castelfranco È stata portata A Pontegola Ha scelto La Ruga Per inaugurare Diciamo Ufficialmente La sua radio La sua venuta Qui a Pontegola Quindi anche questo È un momento D'orgoglio Per noi Ci sono oggi Tantissimi personaggi A Pontegola Per l'inaugurazione Della nuova sede Della Ruga Noi ora li avvicineremo Li intervisteremo Per la nostra emittente E quindi Rimanete con noi Perché fra qualche attimo Ci saranno delle sorprese Grazie È stata Chiara Rossi Assessora alla cultura E vice sindaco Del comune di San Mignato A inaugurare ufficialmente La sala Marianella Marianelli Marianella è stata Anche lei Assessora alla cultura Del comune di San Mignato Entrambe originarie Di Pontegola Quindi per te oggi Un doppio motivo D'orgoglio Esatto Un motivo di orgoglio Ma è un motivo Che appunto Risale già all'inizio Della mia investitura Diciamo così Istituzionale Raccogliere un testimone Come quello lasciato Da Marianella È motivo di orgoglio Appunto Ed è una sfida comunque Una sfida che ci spinge Veramente ad essere Migliori Ad investire in cultura A fare formazione Nei confronti Dei nostri ragazzi Marianella è stata Un esempio straordinario Una donna Inimitabile E ogni giorno Io parlo appunto Come assessore Ho modo di toccare con mano Tutto ciò che Marianella Ha creato A livello anche Di iniziative culturali Per il nostro comune Anche se Marianella È stato un personaggio Molto conosciuto Non solo nel Nel distretto del Cuoio Ma anche nella provincia Di Pisa E anche a Firenze Ricordiamo per i telespedatori Che ci seguono Magari da altre località Della Toscana Chi è stata È difficile identificare Circoscrivere In pochi minuti Una personalità Così importante Come quella di Marianella Però ricordiamo Che oltre a essere stata Assessore alla cultura Ha avuto numerosi Incarichi Anche a livello Provinciale Allora Io più che altro Rimanendo su un territorio Anche però locale Vorrei rimarcare Una cosa Che magari spesso Passa un po' Sotto tono Ed è invece il fatto Che Marianella Ha dato vita Anche al Centro Sturi Sulla civiltà Del tardo medioevo Perché è un unicum Su scala nazionale Per cui Marianella Diciamo che ha dato L'input E l'incipit A creare Questo organismo Che appunto È unico Su Ripeto Non su scala locale Ma su un piano Strettamente nazionale Ricordiamo che Marianella è scomparsa Da poche settimane E quindi Era doverosa Quest'intestazione E credo Che preluda Questa intitolazione All'utilizzo Culturale Della sala Sì Indubbiamente Io colgo L'occasione Per ringraziare La Ruga Per l'attività Di aggregazione Di promozione Culturale Che svolge Sempre sul nostro Territorio E in questo Appunto ci aiuta Proprio in quella Che è il compito Anche di un'amministrazione Di formare Educare E quindi Veramente un ringraziamento Perché Sono straordinari Volevo chiamare qui L'attore Andrea Giuntini Che ci leggerà Per omaggiarla E per Dare la nostra Benedizione Non è così Come dire A Marinella Per quarant'anni Ho regalato Ho venduto parole Pagate sempre assai poco A ragazze e ragazzi come voi Per quarant'anni Ho dato qualcosa Questo io spero Molto ho ricevuto Di questo sono sicura Non c'è deficit Nel bilancio Parlo a voi Per parlare A tutti i giovani Incontrati Nel giro Di un tempo Assai lungo Che ha chiuso Ed ha aperto Speranze Saluto voi Per salutarli tutti Con rispetto Che il maestro Deve all'alunno Col tenero affetto Che la persona matura Deve a chi Ancora cerbo Nel gorgo della vita Si va avventurando Quella che vedete È una delle bellissime Delle simpatiche Diciamo Sedie gialle Che da oggi Arredano gli ambienti Della ruga La prima sedia Però Purtroppo non c'è più Perché Vi si è seduto sopra Giorgia Ariani Ospite d'onore Di questa manifestazione E si è dovuto Trovare velocemente Una sedia rinforzata Guarda Gli hanno detto Guardi ora La sindaco Insomma Questa donna simpatica L'assessora alla cultura L'assessora alla cultura Mi ha detto Dice Tagli il nastro Lei la venga dentro Mi sono messo a sedere La sedia la fatta Ho detto Ragazzi Dio orso Prima di dia La culata in terra E stavo buffo Perché Ah sa Ma tutte le visi Sono venute via Capito Totale Guarda Devo Intanto Dico subito una cosa Che le è bello In questo ambiente Un signore Mi ha detto Mi fa per piacere Una dedica Su questo Opuscolo Le rughe No Cioè Che io Io messo È proprio tempo Di rughe Tu sei particolarmente Legato a Ponte Egola Ti abbiamo trovato Anche in occasione Nella Sagra della Pizza E poi hai girato Qui anche un film Sì Ma io Ti direi Sono attaccato A tutta la Toscana Ma in questa zona È talmente facile Da casa mia Da Montesperto L'arrivo qui Infatti diceva Trovava subito la strada Fino a Ponte Egola Sì Trovava la ruga Trovava la ruga Le stavo Infatti Meno male Fabrizio Illotti Mi veniva A prendere immediatamente Perché ero fermo Davanti alla chiesa Senti Giorgio In questi giorni Sta battendo Ogni record In casso Amici miei Come tutto è benizio Del quale tu sei Uno dei protagonisti Uno dei vessilliferi Della nostra regione Insieme a Paolo Endel Alessandro Benvenuti A Ceccherini A Massimo Ghini Che anche se è nato a Roma È figlio di una Toscana Di San Casciano Quindi lo possiamo considerare Uno dei nostri Sì sì Ma io guarda Ti devo dire la verità L'osservazione Più giusta Su questo film Viste anche le polemiche Me l'ha fatta Moreno Oggi E tu glielo puoi domandare Così Dico anche il nome apposto Perché Mi ha telefonato Mi ha detto A me L'è piaciuto E ti spiego anche una cosa In questo periodo Dove ci sono tanti Di quei problemi In mondo Proprio tutti i giorni Morti Morti Terremoti Dimmi come si fa Andare a vedere Amici miei E ridere Era tutto un altro periodo Meraviglioso Poi oltretutto Come film E come i primi tre Insomma si sa Bellissime Però Eravamo disposti a ridere Le zincarate Avevano un senso Io ho detto Alcuni nomi Degli attori toscani Che sono stati scelti Dal produttore Dal produttore Però dobbiamo Sottolineare la bravura Di Neri Parenti Che è riuscito A far dare il massimo Cioè un Ero Spagni Strepitoso Pamela Villoresi Guarda Nelle parti minori La catia bene Un altro ruolo Ma guarda Che Neri A me ha colpito Per la praticità La sintesi Te devi sapere Che quell'episodio Del mercante di schiavi C'era stato A cattivo tempo Fino a mezzogiorno e mezzo Era già disposto A dire Non si può girare La si girerà domani Ora si vedrà Come si è aperto Un raggio di sole Dopo la pausa E che vuol dire Alle tre Tre e mezzo Lui le ha detto Ci si prova? Ma guarda Lei è vero a me E questo A me che fa piacere dire Lei è questa la regia Senza perdere tempo Sei soddisfatto di questa Lavorare con un produttore Come De Laurenti Se con un regista Come Neri Parenti Ora tu sai Che io ho in batteria Questo film mio E ho approfittato Dell'Odeon Per parlare un attimo Anche con Aurelio Visto che Il produttore Quello che Mette soddile Aldo Mollica In nipote di Vincenzo Mollica E il proprio amico Con Aurelio De Laurenti Si che E io ho detto Va Bene Perché poi Allora Noi aspettiamo Questo film Il titolo L'hai già scelto Disordine Perfetto Sì sì Intanto ti ringraziamo Noi ci rivedremo Qui a Pontegola Alla Ruga Perché verrà presentato Un libro Dedicato al primo Amici miei E quindi tu sarai Fabrizio Borghini E io farò Da testimonial Perché poi Con Fabrizio C'è un'amicizia Lunga da Da anni Diciamo Vent'anni fa È bravo È stato uno dei primi Ospiti di una delle mie Prime trasmissioni È vero Ma poi lo sapete Ha portato fortuna E che c'è di bello Chiudendo questa piccola cosa E magari la chiudo Visto che c'è le rughe Con una battuta Sulla gente Della terza età È che la professionalità C'è in Toscana C'è a Roma C'è a Milano C'è un po' da tutte le parti Quando è professionalità Qui si fa tanto polemia Sulle veline Ma la preparazione Alla fine Paga E lo studio Lo dico soprattutto Ai giovani Tornando alla Ruga Questa signora Anziana La va dai dottori Dottore Sono piena di dolori Signora quanti anni ha? 78 Dica 33 Ma che ci crederanno?